Buongiorno, benvenuti all'anno nuovo Stellantis Compact Van Range! Citroën Barlingo, Fiat Doblò, Opel Vauxhall Combo e Peugeot Parnin. Questi sono i modelli, tutti basati sulla stessa plateforma multienergie, ma allo stesso tempo si rispettano completamente la nuova identità e la lingua del brand che si chiedeva. I clienti potrebbero trovare in questi vans i valori, i caratteristiche e i marcatori che si aspettano dal loro brand preferito. Opel & Vauxhall si concentrano sulla tecnologia, e il loro marcatore è l'illuminazione alta. Tutti Opel & Vauxhall vans sono archivati con le headlamps matrici che servono una visione lunga e evitano il rischio di rinforzare l'oncumente. Il valore di Peugeot è l'allure, e i clienti potrebbero trovare, sui nuovi partenari, il design e il raffinamento dell'eclusivo i-cockpit. Fiat è ben conosciuto per la sua amministratura e la sua ingegnità produttiva, e i clienti potrebbero essere, una volta più, attraverso dalla soluzione intelligenza del suo spazio magico. Finalmente, i clienti potrebbero trovare, sull'interno Citroën e le sceglie di comforza avanzano, tutta la cura tradizionali della brand per il benvenire. Ma, ora si concentrano, su quello che è nuovo, sulle nostre sceglie di comforza. L'interfaccia di macchina umano ha una linea di infotainment completamente nuova, e il pannello del tutto il veicolo, anche interagendo con i botte di ruota. La connessione e la semplicità vengono hand in hand qui. La stazione di smartphone rappresenta un modo smart, pratico e economico di migliorare l'esperienza. La offerta è completata da due sistemi entrattenimenti con un display di più di 10 in, display, Apple CarPlay e Android Auto, la connessione completa e, sul livello, una esperienza completa digitale con l'ambigazione di navigazione e opportunità di rinnovare. La assistenza di driver dopo 18 ADAS, con la nuova, dinamica, visione di surround che supporta il cliente in tutti i maniversi, mostrando diverse visite su quello che è dietro o il prossimo per il veicolo. Nelle seconda generazione Compact EV vans rinnovano la base in classe, up to 330 km, 50 km più che il modello del modello. Il pannello che abbiamo introdotto optimizza l'utilizzo di energia in condizioni di venti, riducendo il waste e l'autonomia estende. Ma ora, è il momento per la nostra Compact Vans per lasciare il mare. per la nostra Compact Vans che ha di offrire. Il pannello che avviene l'utilizzo di batteria in un'ultima e l'utilizzo di batteria in base a 1 tonne. metri, e una scuola tra una versione di BV con un'estendente range e la nuova generazione di combustione interna, una scuola inovativa con una scuola inovativa, piena di scuola e caratteristiche, lanciata a un prezzo accessibile a tutti i clienti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.